Grazie e consentitemi di porgere in apertura un doppio e sentito ringraziamento, il primo al Ministro Patroni Griffi per la fiducia che ha voluto riporre nella Commissione affidandole questo delicato incarico, il secondo altrettanto sentito nei confronti dei componenti della Commissione, i professori Mattarella, Mervloni e Spanger e i colleghi Cantone oggi assente ma assente giustificato e Granelli. Un ringraziamento per il lavoro appassionato che hanno profuso e continueranno, non ho dubbi, a fare. Il mio compito è quello di illustrare i primi risultati dei lavori svolti dalla Commissione, i primi risultati perché la Commissione sta andando come anticipava il Ministro avanti nei suoi lavori, ha individuato alcuni settori, quattro settori, sanità, palti, urbanistica e controlli sui quali continuerà a svolgere le proprie riflessioni e sui quali all'esito di un piano già programmato di audizioni istituzionali sottoporrà appunto al Ministro il rapporto, la relazione più organica e conclusiva. Ora, la Commissione ritiene anche all'esito del confronto che ha avuto con l'Ocse nelle scorse settimane che il contrasto alla corruzione, tanto più in un momento di crisi, qual è quella che sta attraversando il Paese, debba essere posto dal Governo e dall'intero, crediamo, sistema Paese tra le principali priorità dell'agenda politica, al pari di quanto è già accaduto negli altri ordinamenti occidentali, tanto in considerazione degli enormi costi che il dilagare della corruzione determina e vorrei ricordare in apertura che non sono soltanto i costi economici misurabili quelli che la Corte dei Conti quantifica in alcune decine di miliardi di euro, ma si tratta anche di costi economici indiretti, pensiamo all'inadeguatezza dei controlli sulle trasformazioni del territorio, sulla bontà dei beni e dei servizi di cui l'amministrazione si approvvigiona. Poi ci sono i costi etici della corruzione, cioè i costi consistenti nella sfiducia nelle istituzioni e soprattutto nell'abbattimento della capacità di percepirlo il disvalore della corruzione. Qualcuno ha sostenuto che ci sia o ci possa essere una spiegazione culturale al fenomeno della corruzione. E' vero anche il contrario però, come è acquisito nelle analisi scientifiche, cioè che il dilagare della corruzione determina a sua volta un abbattimento della capacità di percepirla e quindi il rischio di una maggiore tolleranza sociale nei confronti della corruzione. Ora, è necessaria quindi una politica organica di contrasto alla corruzione e come è stato detto una strategia di tipo integrato contro la corruzione, che intervenga cioè sul fronte della repressione dei singoli fatti di corruzione, ma anche decisamente sul fronte della prevenzione della corruzione, incidendo cioè sulle ragioni culturali ma anche amministrative della corruzione e sulle occasioni della corruzione. Ecco, noi ci siamo soffermati in questa prima fase dell'attività della Commissione, naturalmente, perché era questo il mandato che il Ministro Patroni Griffici ha assegnato sulla prevenzione della corruzione e abbiamo individuato, volendo schematizzare ma per maggiori approfondimenti rinvio appunto al rapporto scritto, alla relazione scritta, passo in sintetica rassegna questi cinque settori sui quali abbiamo formulato al Ministro alcune proposte. Ora, il primo settore è quello della organizzazione dei processi decisionali all'interno dell'amministrazione, all'interno di ciascuna amministrazione. Il disegno di legge che è al vaglio della Camera già prevede l'istituzione, peraltro è un vincolo di tipo internazionale questo, l'istituzione di un'autorità nazionale anticorruzione, prevede che ciascuna amministrazione pubblica adotti un piano organizzativo in funzione di prevenzione, la Commissione ha suggerito di, come dire, irrobustire già nella legge questo sistema di organizzazione dei processi decisionali, prevedendo, prevedendo, proponendo al Ministro, ecco, proponendo sostanzialmente alcuni contenuti minimi innanzitutto di questi piani di organizzazione in funzione di prevenzione che un po' ricordano, ovviamente ma vanno adeguatamente calibrati sulle specificità del settore pubblico, i modelli di organizzazione che nel settore privato sono stati previsti, anche quelli in realtà in attuazione di vincoli internazionali dal decreto legislativo 231 del 2001. E quindi la Commissione propone alcuni contenuti minimi di questo piano che serve ad individuare le aree nelle quali maggiormente si annida il rischio della corruzione e poi deve contenere delle soluzioni a valle organizzative in funzione di prevenzione, per esempio quella della rotazione degli incarichi dirigenziali o quella di una più accentuata procedimentalizzazione delle decisioni da assumere nelle aree maggiormente esposte al rischio della corruzione, per esempio con la previsione o l'introduzione in quelle aree di più puntuali controlli di regolarità amministrativa o anche di legittimità. Naturalmente tutto questo non deve diventare un mero adempimento burocratico e la Commissione propone anche alcune responsabilità per l'ipotesi di mancata adozione del piano, per l'ipotesi di mancata osservanza sulla relativa efficace attuazione, per l'ipotesi di violazione delle prescrizioni contenute nel piano. Ne parleranno, io credo, il Ministro Patroni Griffi e il Ministro Cancellieri, si è posto il problema dell'attuazione di questo sistema di prevenzione della corruzione sul fronte delle amministrazioni locali, delle migliaia di amministrazioni locali, quindi in particolare per quanto riguarda i comuni e le province e le relative, per così dire, evoluzioni ordinamentali. Al riguardo abbiamo, proprio in questi giorni, la Commissione si è confrontata con il Ministero dell'Interno e ha suggerito una valorizzazione al riguardo delle competenze e delle professionalità dei prefetti che potrebbero svolgere un ruolo di supporto in favore dei comuni nella elaborazione dei piani organizzativi in funzione di prevenzione che ciascun comune dovrà adottare al pari delle altre amministrazioni e anche un ruolo di monitoraggio circa la coerenza di questi piani comunali con le linee guida che l'autorità nazionale anticorruzione dovrà elaborare. La Commissione, pur rendendosi conto, per così dire, della cautela con cui il tema va affrontato, ha proposto di considerare questo piano di prevenzione della corruzione all'interno della vita politica amministrativa dei comuni come un atto amministrativo di fondamentale importanza al pari di altri atti di cui la legge assegna importanza centrale, penso al bilancio, ecco estendendo alla mancata adozione del piano le misure che già oggi il Tuel, l'articolo 141 del Tuel, prevede appunto per l'ipotesi di mancata adozione del bilancio comunale. Il secondo fronte, vado velocemente e mi limito soltanto ad una sintetica rassegna, è quello dell'integrity dei funzionari pubblici e quello dell'integrità dei pubblici funzionari. Su questo l'Ocse che abbiamo incontrato è stata particolarmente, o i suoi suggerimenti sono stati particolarmente incisivi e la Commissione ritiene che si debbano rivitalizzare i codici etici, assegnando però cogenza agli stessi in particolare collegando una responsabilità disciplinare alla violazione delle previsioni in essi contenute ritiene che sia necessario rivitalizzare il sistema della responsabilità disciplinare all'interno dell'amministrazione in modo da rendere stigmatizzabili già all'interno dell'amministrazione quelle condotte di legalità, di venalità che spesso preludono al fatto corruttivo ma che ancora non hanno il contenuto di disvalore necessario per l'accertamento penale, riteniamo infine che sia necessario ridisciplinare o disciplinare in modo più organico e più rigoroso il sistema delle incompatibilità all'interno delle amministrazioni. Il terzo fronte, lo ricordava il Ministro e ho quasi concluso, è quello della trasparenza, le opacità delle amministrazioni sono tra le occasioni, per così dire, del fenomeno corruttivo e quindi è necessario garantire livelli ancora più elevati di trasparenza. Abbiamo formulato alcune proposte. Il quarto fronte è quello della promozione di una cultura dell'etica e della legalità all'interno dell'amministrazione, di un rafforzamento anche delle capacità tecniche all'interno dell'amministrazione. Qui proponiamo una sorta di abilitazione professionale per quei dipendenti che devono svolgere la loro attività in alcune aree più esposte al rischio della corruzione. Proponiamo un impegno forte delle scuole di formazione pubblica al riguardo. Il quinto e ultimo fronte è quello, e anche su questo abbiamo avuto un serrato confronto con l'Ocse, è quello della tutela del whistleblowing, cioè sostanzialmente l'idea è quella di stimolare l'emersione del fenomeno corruttivo e più in generale dell'illegalità all'interno dell'amministrazione, introducendo nell'ordinamento discipline che garantiscano chi vuole denunciare queste illegalità o questo addirittura fenomeno corruttivo e quindi la proposta è quella di introdurre una disciplina rigorosa che assicuri l'anonimato per il whistleblower e anche a certe condizioni una premialità per chi denuncia, ferma naturalmente le responsabilità che non possono mancare per l'ipotesi in cui la denuncia costituisca invece o si traduca in condotte di tipo diffamatorio o di tipo calunnoso. Grazie.